Le stimmate. Questo fenomeno consiste nella spontanea apparizione di piaghe sanquinolenti nel corpo di una persona. Appaiono nelle mani, nei piedi e nel costato e alle volte anche alla testa e sulle spalle. Tali stimmate possono essere visibili o invisibili, permanenti o periodiche. Le stimmate sono credibili quando vengono accompagnate da forti dolori fisici e morali, essendo un'assimilazione a Cristo crocifisso. Il primo stimmatizzato che si conosce è Francesco da Sisi. Padre Pio è il primo sacerdote insignito di tale dono. Il fenomeno mistico delle stimmate è uno dei più combattuti dai razionalisti che negano il suo carattere soprannaturale e cercano di spiegarlo per mezzo della semplice immaginazione o della patologia. Circa le stimmate di Padre Pio. Come spiegare le stimmate di Padre Pio avute per anni e anni? Curate e fasciate e non sono mai andate in cancrena, né si sono rimarginate e quando il corpo era avviato alla morte si sono rimarginate senza lasciare nessun segno di cicatrice. La bilocazione. Consiste nella presenza simultanea di una persona in due luoghi diversi. I casi più conosciuti si riferiscono a Sant'Antonio da Padova, a San Francesco da Sisi, a San Giuseppe da Copertino e ai giorni nostri a Padre Pio da Pietrelcina. Circa una spiegazione di tal avvenimento dobbiamo prendere atto che nessun fenomeno mistico presenta tante difficoltà come la bilocazione. Ciò però non vuol dire che non ci sono casi di bilocazione né che si possono spiegare con le semplici forze della natura. Inoltre perché il corpo non si può trovare realmente in due luoghi distinti è necessario che in uno di essi ci si trovi soltanto apparentemente. A riguardo a Padre Pio affermava che la persona è cosciente di trovarsi in due luoghi diversi ma non può precisare dove si trova in maniera reale. Il profumo. Il fenomeno mistico del profumo consiste in una squisita fragranza che si sprigione da persone timorate di Dio, dal corpo dei santi o dai sepolcri dove riposano le loro spoglie. Dio mediante il profumo permette la conoscenza delle virtù eroiche praticate dai suoi servi fedele. Il profumo si è verificato intorno ad alcuni santi come San Filippo Neri, San Gerardo Maiella, Santa Gemma Galgani e negli ultimi tempi a Padre Pio da Pietrelcino. Venafro sede di alcuni fenomeni mistici. Durante la permanenza a Venafro e di Padre Pio si verificarono alcuni fenomeni mistici che vengono rifondati, ritrovati meglio nel diario di Padre Agostino, confessore del Padre. A Venafro e Padre Pio giunse verso la fine del mese di ottobre del 1911. A Napoli viene visitata dal cebbel ebre dottore Antonio Caldarelli che al termine della visita decreta per il Padre la sentenza di morte. A Venafro e Padre Pio sparimenti misteriosi episodi, l'incomprensione nelle malattie, le estasi, la scrutazione dei cuori, la conoscenza dello stato di alcune anime, la coronazione di spine, le manifestazioni diaboliche sotto forme diverse come di gatto, di donne provocanti, di carnefici, flagellatori. Da una lettera inviata da Padre Pio al suo direttore veniamo a conoscenza delle prime notizie circa le stimmete del padre. Nell'autunno 1910 Padre Pio scrive, in mezzo alla mano è apparso un po' di rosso quanto una forma di un centesimo, accompagnata anche da un forte ed acuto dolore. In seguito scomparvero i segni, ma continuarono i dolori. La comparsa delle stimmete in forma evidente e permanente per 50 anni risale al 20 settembre 1918.